Inaugurato e rinnovato il nuovo bocciodromo del centro sportivo e sociale Giancarlo Santinelli di Ponte Sasso. I lavori appaltati a fine 2017 riguardavano la riqualificazione energetica con il rifacimento della copertura e degli infissi del volume della struttura che da tempo necessitava di interventi a causa delle incessanti piogge all'interno e per un problema di alti consumi energetici di riscaldamento. Il sistema di copertura è stato progettato con pannelli isolanti, gli infissi sono stati completamente sostituiti così come il sistema di riscaldamento e l'illuminazione interna è passata a LED. Inoltre sono state modificate le piste per consentire ai disabili di accedere. Oggi finalmente grazie all'impegno nostro sì ma anche dell'amministrazione comunale che in piena collaborazione siamo riusciti così a completare diciamo quest'opera anche se non è molto grande, non sarà molto accogliente a livello di spazio però comunque è una struttura oggi confortevole. Questo impianto ha forte vocazione sociale e sportiva nato negli anni 90 oltre ad accogliere gli amanti delle bocce offre la presenza anche di altri spazi polivalenti tra cui basket e calcio. Questa è una bella opera tanto attesa dalla struttura di Ponte Sasso, dalla popolazione di Ponte Sasso. Questo intervento è un intervento importante come struttura ma anche ha un forte valore sociale perché qua vengono tante persone, ci sono realtà sportive ma ci sono anche tante attività sociali. È un punto di riferimento per tutto il quartiere di Ponte Sasso e non solo.